Bella a tutti ragazzi e bentornati in questa nuovissima reaction Oggi ragazzi siamo qui con una reaction molto molto importante Soprattutto per me, come avrete letto dal titolo Magari non lo conoscerete, sono contento di aver aperto questo video In caso non lo conosciate, ma siamo qui con una reaction ragazzi Alla canzone, anzi a un freestyle di un mio amico Comunque un rapper emergente che però io e Lesk conosciamo E al quale vogliamo tanto bene, uscita oggi come l'ho detto dal titolo Reaction a Revenge Freestyle ragazzi di Unke Se non lo conoscete io non vi chiedo, non vi dico andate a seguire Unke Perché non ha senso secondo me, io non lo farei almeno Andate almeno se volete per me dopo questa reaction Dopo che abbiamo sentito questo freestyle insieme A vedere Unke, a ascoltare quello che ha portato Unke Quello che porta Unke Trovate qui in descrizione il suo profilo di Instagram Comunque ora andremo a vedere il suo profilo di Youtube Dal quale vedremo il video Comunque perché c'è anche il video a questo freestyle E andatelo a seguire, ha fatto uscire già due album Abbiamo fatto anche una reaction a una sua canzone Molto molto bella, andate a vedere anche quella reaction E quindi se siete nuovi e se volete anche provare Se poi se non vi piace, pace, commentate anche se vi piace o no Diteglielo anche a lui se arrivate anche dal canale Quindi molto molto importante, mi raccomando Almeno con la musica, a me piace fare così Non vi chiedo quindi semplicemente di andarlo a seguire Mandatelo a ascoltare, dategli qualche chance per le vostre orecchie E poi ditemi se vi piace o meno Se vi piace cosa, se non vi piace cosa E poi parlate anche con lui e ditele che venite da qua Per la prossima live reaction ragazzi Potrebbe già uscire oggi invece riguardo al canale Quella degli FSK con i Rama Sempre se non ci blocca il video E se lasciate tanti like, almeno 40 ragazzi Mi raccomando e commentate anche con tutte le reaction che volete Dovrebbe uscire, se appunto lasciate i like Oggi quella di i Rama e gli FSK E domani quella di Gali Con le nuove tracce di DNA Plus Se non ci bloccano i video Quindi metto le mani avanti Non è colpa nostra Quindi direi che per questo video Andiamoci intanto a sentire un che Tutto in descrizione Andatelo quantomeno ad ascoltare E dopo però la reaction Dopo che ce lo saremo ascoltate insieme Perché è uscito questo freestyle E io ancora lo devo ascoltare ovviamente E niente Sarò ovviamente più in parziale che posso Andiamo direttamente su YouTube Eccoci ragazzi Ho fatto un po' la grafica Spero vada bene così Così potete vedere Qui sotto Credo Ora non lo so di preciso La prima volta che la faccio Comunque il video di Unk insieme a me E appunto Poi vedete la mia faccia La mia reaction In grande Allora è uscito qui Vedete il suo canale YouTube Con il freestyle Andate anche voi a dargli un ascoltato Dopo ovviamente il primo ascolto Che sarà insieme Quindi nemmeno del tutto Fatto stra bene per voi Però intanto ne dirò io almeno Cosa ne penso Direi di mettere ovviamente A schermo intero E ce l'andiamo a sentire Il testo c'è anche sotto Un minuto e quarantanove Revenge freestyle Unk Official video Parte così con sto piano E parte così anche unk Eccolo lì Ok Questi qua pensano fra di potermi far male Ma loro non sanno di tutto Quello che ho passato Di quando nonno era chiuso Dentro l'ospedale Adesso piango Perché non ci sono mandato Non sono mai stato bravo A superare i problemi Se ci provo dopo Mi ripeto baby Tanto non esci qua Io che non ho schemi Solo questi fogli E solo i miei pensieri Io che non ho beni Ma queste mini ciò che raccoglie Ed oggi non penso più a ieri no La strada guapuglia Ed io vado alla cieca Non ascolto chi mi dice prega Sono un peccatore Come ogni poeta Proseguo questo cammino Tanto sono solo Da una vita in terra Sogno io che volo Fuori l'atmosfera Ma batto col suolo E torno a una bufera Fra Che mi rende sempre più vulnerabile Ho un carattere instabile Ed è questa instabilità Redermi così fragile Vorrei andarmene Sì da un'altra parte Dove posso vivere Sta vita al massimo Ma senza limite Io voglio scrivere Dato convincere me stesso Perché posso farcela E no non sento Chi mi dice basta Fra io in questa merda Sono come Attila Non cresce l'erba Quando passo in qua città Questa fratella È la mia unica tattica E sono sicuro Che è quella vincente Anche se qua la gente Si mangia la plastica E la spaccia Come se fosse decente Ma la mia vendetta La servirò a fredda Sa che non ho fretta Di salire in alto Pro ciò che mi spetta Senza che mi perda Senza un'etichetta Che senza contratto Ma la mia vendetta La servirò a fredda Sa che non ho fretta Di salire in alto Piedi per terra Pronto per la guerra Fraltetta Quando ho sonato Che combatto Bella pure la base Ora ne parliamo bene Ragazzi Però volevo ascoltarlo È il primo ascolto E se ne entra in macchina Così Ok Ok Sì Come vi avevo detto Non so se ve l'avevo detto Comunque In questa Canzone Ci avrebbe Annunciato qualcosa Non ci aveva detto cosa E fuori il 20 novembre Un nuovo singolo Cioè un nuovo singolo Questo era un freestyle Quindi sì Nuovo singolo Con questi fit Che non conosco Quindi evito di pronunciarli male Sicuramente Altri emergenti Che poi ascolteremo Se volete la reaction Ma probabilmente arriverà E anche la produzione Wow Ecco me Sono tornato qui Da Dal canale youtube Direttamente Ok Posso dire Sono rimasto Sono rimasto sorpreso Cioè non so che diva Subito prima ascolto Vorrei subito risentirla In realtà Per capire bene Che dire Ma stupito Innanzitutto Allora i testi Vi ripeto Andatelo a sentire Se potete Se avete tempo Se anche Non trovate Musica Che In questo periodo Che secondo me Ragazzi Sentire Sentire musica Mi fa passare Le giorni Me le migliora Molto spesso Anche quando non è proprio La musica delle migliori Per mood Però Alcune io mi ci ritrovo Tanto in alcune sue canzoni Alcuni suoi testi Molto molto belli Quindi andate a sentire Secondo me anche per noi ragazzi Tanti ci possiamo ritrovare Come lui Perché lui Descrive se stesso Appunto nei testi Allora qui però Devo dire Mi è piaciuto tanto il testo Vorrei rivederlo Però Mi è piaciuto tanto Regà Non me l'aspettavo Non so come si dicono Quegli effetti Tipo di Lui ha dato Quell'effetto alla voce Che non era L'effetto tipo To do Che corregge Le linee Non so come si chiama Quell'effetto Signorante Però Tipo che fosse Non so Non in una caverna Però in maniera strana Sicuramente Sentendolo Abbiate capito E comunque anche lui Penso Lo sa ovviamente Perché l'ha fatto lui Però mi è piaciuto un po' Ho fatto anche le sporche sotto Che si sentivano Le seconde voci Non so come definirle bene Mi è piaciuto un po' Non me l'aspettavo È stato un grande upgrade da lui Glielo sto dicendo anche adesso Anche lui Perché si sta vedendo il video Adesso Mi è piaciuto tanto Di solito Ho catturato al massimo dal testo Ma qua Queste scelte stilistiche Mi hanno fatto impazzì Cioè è proprio un suono pulito Pulito Mi è piaciuto un po' Io devo dire Allora sinceramente Un paio di volte Al primo ascolto Mi è sembrato Si sia mangiato Mezza parola Quello io devo dire Ho detto Sarò imparziale Però forse perché Con questo effetto Era un po' Non dico inevitabile Però magari Mi sono impappinato io Pure con le seconde voci Non lo so Per il resto Regà Questo effetto Non me l'aspettavo Il testo Mi è piaciuto davvero Anche quello Tanto Comunque per essere un freestyle Ci stava un botto E sono molto curioso Di vedere poi Cosa ci servirà Perché Questo freestyle Come abbiamo visto È l'anteprima quasi di qualcosa Ci sarà il singolo Poi chi ne sa Chi lo sa Ci sarà già un album Tra un po' Lo scopriremo Lo scoprirò Insieme a voi Ovviamente E niente ragazzi Io per questa reaction È tutto Vi consiglio Vi consiglio Almeno io Per quello Perché io lo sento Spesso e volentieri Di andarlo A sentire Poi se vi piace Anche lo seguite Su Instagram E YouTube Principalmente anche Instagram Vi tiene aggiornati Molto più di noi Sicuramente Però ovviamente Su YouTube Escono tutte le canzoni Soundcloud anche Ma comunque trovate Tutte le info Da lui Io ragazzi Vi ringrazio Comunque Perché abbiate Seguite questa reaction Perché appunto Non mi ha portato Un nome conosciuto Quindi sono contento Se anche lo andrete A ascoltare Quanto meno Se non vi piace Pace Ringrazio anche Quelli che magari Sono venuti Dallo stesso Unche Chi lo sa Anche voi Se volete Iscrivetevi al canale Qui sopra Trovate tutte le nostre reaction O comunque C'è la playlist apposta Andatela a vedere E fatevi anche Due risate E commentate quei video Tanti commenti vecchi Ragazzi Li leggiamo Io ragazzi Vi chiedo 40 like Per una prossima reaction Noi ci vediamo In un prossimo video E bella Unche Bella ragazzi Grazie a tutti